weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi parliamo di sfide della settimana numero 10 parliamo di avamposti delle spedizioni quelli che dobbiamo visitare in un'unica partita per poter svolgere completare la missione quindi ragazzi vi faccio vedere un percorso molto molto rapido che vi permetterà di completarla appunto in un colpo solo gli avamposti da visitare sono quattro sono quelli che state vedendo proprio davanti a me in questo momento e per fare la sfida vi consiglio ovviamente di recuperare subito subito un aeroplano in modo appunto da essere super veloci per poterla completare vi ricordo che con la patch con il secondo aggiornamento della patch 7.30 gli aeroplani sponono al 50 per cento delle probabilità quindi potrebbe esserci anche il caso che non lo troviate prendiamo il primo ragazzi prendiamo il primo e vediamo se riusciamo ad andare come vedete ragazzi il primo l'abbiamo già fatto per il secondo raga dobbiamo andare esattamente qua sì eccolo qua andiamo a prenderlo ragazzi molto velocemente quindi io vi consiglio di prendere l'avamposto a passatempi pomposi andare esattamente a fare il secondo che rimane vicino a rifugio ritirato dopodiché ci si allarga su quello vicino palmetto paradisiaco come vedete c'è è anche probabile che trovate altri giocatori che fanno la stessa missione ragazzi quindi se per caso non volete saperli a memoria potete semplicemente seguirli vediamo se basta semplicemente avvicinarsi esatto andiamo avanti come ho fatto vedere prima e pingato il terzo avamposto che è proprio quello davanti a noi lo raggiungiamo ragazzi dopodiché una volta fatto l'avamposto alla sinistra di palmetto paradisiaco alla destra di lande letali vi consiglio di proseguire per raggiungere l'ultimo che è quello che si trova nelle ex fabbriche quelle coperte dal ghiaccio vi faccio vedere ragazzi adesso andiamo prima all'avamposto dove va andiamo prima all'avamposto vi ricordo intanto ragazzi che se ancora non lo avete fatto c'è il mio video sulle sul falò da scegliere per poter sbloccare la fase numero 3 del prigioniero adesso vedremo quando arriverà la fase numero 4 ci manca esattamente l'ultima l'ultimo avamposto mi raccomando andate a dargli un'occhiata vi ricordo anche un'altra cosa importantissima questa settimana c'è lo standardo segreto non la stella e ve l'avevo già mostrato in un video di qualche giorno fa e soprattutto ragazzi prima di completare la missione mi raccomando di utilizzare nel vostro shop il mio codice creator xuderone da domani 8 febbraio fino al 22 febbraio potrete ottenere una skin gratis shoppando con il mio codice xuderone la skin di san valentino siamo praticamente arrivati dopo questa chiacchierata al quarto avamposto e quindi ragazzi basta semplicemente che vi avvicinate e come noterete fra pochi secondi la sfida si può considerare completata io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto grazie lanfranco ciao 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 Grazie a tutti.